Ma tu veramente vuoi uscire con Mauro questa sera? Dopo tutto quello che ti ha fatto, tu non sei normale. Ma guarda come ti ha combinata l'ultima volta. Ma non ti sono abbastate tutte le volte che ti ha picchiata? Io direi che non è adatto proprio per nessuna. Basta, io non posso più giustificare questo tuo modo di essere, è meglio se la finiamo qua. Non sei tu a poter decidere poi, è finita, tu sei mia. Lasciami, basta, mi fai male, lasciami, lasciami. Giulia, dove cazzo vai? Se non sei via non sarai di nessuno.